ciao a tutti facciamo una vacanza per l'ultimo dell'anno andremo un po in toscana credo a forte dei marmi ma adesso vediamo un po quando siamo nelle vicinanze in base se troviamo il posto se non troviamo il posto e poi ci riaggiorniamo acquittati e come sempre vi facciamo un po vedere quello che vediamo noi ciao 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 allora siamo lì di camaiore in via per asso che praticamente è un piazzale dove tutti puoi parcheggiare ed è libero molto comodo vicino al mare vicino alla passeggiata del lungomare interessante interessante ciao 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 ciao